Presidente, è un momento difficile per Prato, per la provincia di Prato, anche l'AC Prato vuole essere vicino a tutti coloro che in questo momento sono in gravissima difficoltà, ma nonostante questo domani si torna in campo perché comunque bisogna andare avanti. Sì, assolutamente sì, io ovviamente ho sentito tantissime persone, tanta gente, nel limite del possibile stiamo aiutando chi possiamo aiutare, e anzi, cosa che non è saltata comunque alle croniche nazionali, come per esempio si è parlato tanto della curva della Fiorentina, però diciamo che la nostra curva ha fatto forse anche di più perché è partita immediatamente, su queste cose bisogna dargliene atto, come ho detto già nell'intervista oggi non lo faccio, però per ricattarsi o benevolenza perché la curva sa che quando c'è qualcosa che non va ce lo diciamo francamente, però quando vengono fatte le cose fatte per bene, chapeau, per cui bravi, bravi tutti, bravi ragazzi, una città straordinaria, bravi anche i ragazzi della nostra prima squadra perché anche loro senza dire niente, in silenzio, hanno chiesto l'assenso della società e sono andati a lavorare in mezzo alle strade anche aiutando campi di società amiche e non sul territorio, senza guardare in faccia a nessuno, con le pale, sporchi di fango, per cui chapeau anche a loro perché se ne è parlato poco. Detto questo domani si gioca, avremmo voluto posticipare ulteriormente questa partita di domani, ma ahimè non è stato possibile, si è giocata anche Fiorentina-Juventus nelle polemiche e noi più di questo sul mercoledì non siamo riusciti a fare, capisco anche i tifosi che dicono che nel pomeriggio preferiscono andare a aiutare le persone in difficoltà piuttosto che venire allo stadio, lo comprendo, io più di questo non sono riuscito a fare. Domenica c'è il derby con la Pistoiese, anche per questa partita la Curva ha chiesto un rinvio oppure di posticipare l'inizio ad un orario che possa consentire di aiutare la popolazione e poi di vedere la partita. A che punto siamo per la trattativa per un eventuale posticipo? Allora, beh, domani abbiamo il Comitato Provinciale di Sicurezza e Ordine Pubblico, a cui porremo all'attenzione, mi sono già sentito col Sindaco Biffoni, e su questo convergiamo come interesse e come disponibilità, dobbiamo capire sulle forze dell'ordine e tutti gli altri stakeholders coinvolti se c'è la possibilità. Ovviamente io mi aspetto che in un momento così particolare, se si può fare un passo in avanti nei confronti dei tifosi che fino a qualche ora prima di una partita eventualmente giocata alle 18 sono per le strade ad aiutare gli altri cittadini, direi che mi sembra il minimo. Detto questo non siamo noi a decidere, noi possiamo proporre, da parte della società c'è massima disponibilità e secondo me sarebbe anche doveroso. Detto questo, domani dopo l'ordinio del Comitato vediamo se avremo degli aggiornamenti. Comunque sia noi che il Comune andremo con una proposta comune che sarà quella o di rimandare un pochino per le 18 la partita oppure di spostarla un mercoledì, magari anche lì in tardo pomeriggio, verso il 19-19 del 30. D'altronde l'anno scorso, quando abbiamo fatto questo bellissimo termine, è stato infrasettimanale di sera, c'era il tutto esaurito e non è successo nulla. Grazie alle forze dell'ordine che hanno svolto il loro compito in modo perfetto e anche grazie ai tifosi che comunque, di ambedue le fazioni, che oltre che tifare in modo molto agguerrito, ma alla fine si sono limitati a quello. Problemi organizzativi ma anche problemi tecnici, due gare, prima Limolese poi la Pistoiese, non due gare banali a livello sportivo. Assolutamente non banali e poi settimana dopo anche il San Giuliano, per cui diciamo che queste prossime tre partite sono partite importanti. Non ci siamo potuti allenare alla grande, perché il campo era fino a ieri, c'è stata l'ordinanza del Sindaco che non permetteva le attività sportive all'aperto, però comunque grazie alla disponibilità di alcune società del territorio, che poi ringrazieremo ufficialmente in un comunicato, i nostri ragazzi un minimo di allenamento lo hanno fatto nei giorni precedenti e oggi di nuovo qui a Lungo Bisenzio. Presidente, Prato si sa rimboccare le maniche, sa ripartire da capo, ma questa è una prova dura. Io ho trovato una Prato straordinaria, ho sentito tanta gente, anche che ha avuto problemi seri e comunque dire non mollare, dicendo Presidente noi tanto qui ripuliamo, in una settimana ripartiamo, è veramente tanta roba, tanta gente per strada, tantissima solidarietà, beh in un momento così indrammatico vedere delle famiglie che magari spalano insieme a 15 persone sconosciute che passavano di lì e hanno dato la loro disponibilità e tanta roba, una città del genere si deve rialzare per forza.